è indiscutibilmente un pezzo di storia di Fano legata al santo patrono e alla ricerca della dea bendata anche se a fin di bene quando nacque la tombola di san paterniano probabilmente nell'immediato dopoguerra non esistevano slot machine o grattini dalle vincite milionarie e quindi la ricerca di un colpo di fortuna avveniva con le lotterie nazionali il gioco del lotto o queste estrazioni ecco il perché del suo grande successo inoltre era una forma di sostegno al convento dei padri francescani della città e quindi doppia ragione per esserne dei partecipi oggi lo scenario sociale è totalmente diverso ma il fascino e l'attrattiva della tombola estiva di Fano è rimasto immutato come immutata e la sua finalità grande partecipazione ogni edizione di turisti all'evento soprattutto gli abituè diverse volte se ne sono tornati nei luoghi di origine con un bel primo premio in tasca e la vacanza praticamente gratuita ma anche dai fanesi doc che vivono questo appuntamento come un punto fermo della vita pubblica cittadina quest'anno per il 10 di luglio prossimo gli organizzatori hanno voluto dare una nuova veste all'estrazione in piazza cucendoci attorno una vera festa fatta di musica poesia e comicità quest'anno la tombola di san paterniano è una tombola show si vedi il nome show ce lo portiamo dietro all'infinito e si ci hanno chiamato a me a giovanni gian giacomi e quindi io presenterò la serata che comincerà alle 21 quindi due ore prima dell'estrazione giovanni farà degli interventi con i suoi personaggi più noti diciamo ci divertiamo con massimo gasperini con cui faremo un pezzo a due io e lui su san paterniano poi ci sono i tso un gruppo bravissimo che si alternerà tra interventi comici ci saranno poi le poesie il viogrilli ci sarà il mano simoncelli insomma una serata articolata molto divertente i biglietti le cartelle della tombola sono già disponibili in molte edicole della della città la cartella della della tombola che costa due euro e cinquanta consente di partecipare anche alla lotteria per la tombola invece sono confermati i premi dell'anno scorso cioè la tombola 1250 euro la la cinquina 500 e la quaterna 250 euro partner storico a sostegno dell'organizzazione dell'evento non poteva mancare anche quest'anno il gruppo bancario creval si sia un legame ormai indissolubile come con tantissime altre iniziative che fanno parte della tradizione di questa città e di questo territorio quindi assolutamente abbiamo confermato il nostro sostegno e lo faremo anche nei prossimi anni perché come dicevo prima è un'iniziativa della città che coinvolge tutti e bisogna averne rispetto e anche sostenerla